Preparatevi a rimanere senza fiato, questa settimana, il gran finale della prima stagione di Endless Love, porterà a una rivelazione sconvolgente che cambierà tutto quello che pensavate di sapere. Quello che sto per svelarvi è destinato a ribaltare completamente ogni certezza, nessuno sarà al sicuro, e la verità emergerà in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Nian si allontana dalla festa. La giovane porta con sé una lettera che Kemal le aveva consegnato anni prima, chiedendole di leggerla solo nel caso in cui un giorno lui avesse rinunciato al loro amore. La sezzin, leggendo le parole piene d'amore del soidere, scoppia a piangere. Dopodiché, al termine del Rito degli Anelli, che ufficializza il fidanzamento tra l'ingegnere ed Asu, la pittrice accusa un malore. Intanto, Tariq esegue gli ordini di Emire e conduce Ozan e Zeynep al Molo. Al termine del Rito degli Anelli, Nian è svenuta. Quest'ultima viene ricoverata d'urgenza in ospedale, mentre Ozan, che è stato arrestato, ha una crisi di panico mentre viene condotto in cella. Qui, per fortuna, viene accolto amichevolmente dagli altri detenuti. Intanto, Kemal inizia a sospettare che dietro la fuga rocambolesca di Zeynep e di suo marito ci sia lo zampino di Emire. Emire ed Asu si ritrovano al capezzale della loro povera madre, Mujgan. La ragazza respinge ogni tentativo di avvicinamento del fratello. Tuttavia, una sconvolgente rivelazione di Emire li porterà a prendere una decisione condivisa. Intanto, Nian e Kemal si stanno scontrando ed accusando a vicenda. Lei gli attribuisce la colpa dell'arresto di Ozan, mentre lui di aver ceduto ad Emire. Emire si accorda con un dottore affinché possa far abortire Nian senza che lei se ne accorga. La Sezin viene sedata e è in stato di incoscienza e viene preparata per un intervento chirurgico, quando improvvisamente lo spregevole marito ci ripensa. Intanto, Ozan è ancora in carcere e le sue condizioni psicologiche sembrano peggiorare sempre di più. La sua famiglia è seriamente preoccupata, come Zeynep. Tuttavia, Kemal non pare crederle. Zeynep non fa che dargli delle risposte reticenti riguardo a Demire, pertanto Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, l'ingegnere scoprirà che effettivamente Zeynep aveva una relazione clandestina con il suo acerimo nemico. Intanto, Galip chiede ad Asu di incontrarsi. Durante il loro appuntamento, lui le rivolge molte domande personali in merito alla sua famiglia. La giovane intuisce che Galip conosca la sua vera identità. Emir, invece, decide che è giunto il momento di uccidere il suo idere. L'imprenditore ordina a Tufan di farlo fuori.